buongiorno a tutti e benvenuti su investire.biz buon inizio di settimana a tutti quanti allora andiamo subito come ogni mattina ad aggiornare un po di strumenti che stiamo seguendo avevamo operato la scorsa settimana se ricordate bene long su euro dollaro e long anche su argento la cosa però che su cui dobbiamo focalizzarci oggi è proprio la chiusura della candela di venerdì che ha dato dei chiari segnali contrari però prima di andare quindi ad aggiornare il tutto come ogni mattina andiamo sul sito investire.biz perché oggi insieme a luca di scacciati vi aspettiamo al webinar del lunedì delle ore 18 come sempre ogni lunedì potete iscrivervi gratuitamente qui detto ciò andiamo subito sulla piattaforma di kimura per vedere che sta succedendo parliamo anche di dollaro assolutamente però prima iniziamo dal indice più importante al mondo e cioè s&p 500 che sta succedendo allora i prezzi dai massimi sono scesi leggermente dalla zona dei 4540 4545 stiamo parlando di s&p 500 cash qui abbiamo il time frame giornaliero come potete vedere la linea kision delle indicatori cimoku funziona molto molto bene da supporto ultimamente in ogni caso notiamo come questa trend line sorregge quello che è il trend rialzista di breve medio termine ed è lì dove è proprio lì che vogliamo andare ad aprire nuove posizioni rialziste allora la settimana inizia bene con un'apertura come possiamo vedere adesso andiamo a zoomare un po positiva abbiamo un rialzo intorno alla zona dei 4480 punti però non escludiamo un ritorno non solo sul supporto statico segnalatoci qui dalla linea kision dell'indicatore cimoku era 4450 punti ma ci aspettiamo anche un test della trend line quindi del supporto dinamico andremo di conseguenza ad aprire delle nuove posizioni una volta raggiunta questa zona detto ciò passiamo ora ai cambi valutari iniziamo con il cross gbp aud dove siamo in posizione short più o meno da questi livelli poco più in alto abbiamo un leggerissimo profitto e abbiamo come obiettivo i minimi precedenti per chi vuole operare anche di più ampio respiro abbiamo dei target molto molto ambiziosi ma raggiungibili in area 182 50 1 e 82 quindi questa è la mia view su gbp aud ribassista se i prezzi però ritornano sopra il livello statico la resistenza scusate statica intorno alla zona degli 1,88 e 50 andremo a chiudere la nostra posizione però andiamo avanti come detto parliamo di dollari di euro dollaro perché nella giornata di venerdì abbiamo ho fatto insomma la rubrica caffè mercato abbiamo parlato molto di euro dollaro abbiamo visto come sul time frame orario c'erano tutte le possibilità per ritornare di nuovo in area 1,19 con la rottura di questa zona ve lo ricorderete poi cosa è successo è cambiato infatti nel corso della giornata siamo ritornati al di sotto del livello di 1,18 e 10 e quindi il trend è cambiato ulteriormente sul time frame h1 e abbiamo di conseguenza deciso di chiudere la nostra posizione importante come in è importante in queste situazioni capire quando è il momento di uscire subito dalla posizione senza star lì a sperare che i prezzi ritornino su o giù in base al nostro in base alla nostra operatività una volta che un prezzo una volta che i prezzi vanno al di sotto o al di sopra di un determinato livello che avevamo individuato inizialmente nella nostra analisi bisogna chiudere subito la posizione senza star lì ad aspettare o comunque a sperare che succeda qualcosa perché poi si va soltanto a perdere ancora di più detto ciò però torniamo sul time frame giornaliero eccolo qui di euro dollaro e che cosa notiamo che i prezzi stanno testando proprio in questo momento il supporto statico segnalato anche dalla linea kishin 117 90 questa zona è comunque interessante in generale perché qui troviamo anche la zona dei massimi del 13 di agosto e anche quella del 27 di agosto stiamo testando questa zona che ora vi evidenzio e attenderemo la chiusura giornaliera per capire se è il caso di entrare long oppure no però non dobbiamo avere fretta attendiamo perché la candela di venerdì la possiamo vedere qui è sicuramente un segnale ribassista vediamo se questo supporto tiene concludiamo il tutto con euro gbp situazione interessante per un long qui anche qui si può valutare qui invece si può valutare un long già a mercato perché abbiamo uno stop loss molto stretto e un primo obiettivo abbastanza ampio infatti questo è un supporto molto chiaro lo vediamo qui euro gbp se i prezzi chiudono sotto il minimo di venerdì quindi se oggi i prezzi chiudono al di sotto del minimo di venerdì e il minimo di venerdì è 0 85 20 noi usciamo dalla posizione quindi un un ottimo trade con buoni rapporti di rischio rendimento andiamo a calcolarli eccoli qui andiamo subito a calcolarli obiettivo sui massimi precedenti stop loss appena sotto i minimi di venerdì e abbiamo un rapporto di rischio rendimento di 1 a 4 quindi operazione interessante ma che la vedremo anche questa sera al webinar del lunedì delle ore 18 io con questo ho concluso auguro una buona giornata e un buon trading a tutti e e e e e e Grazie a tutti